Ciao a tutti, è Maye da Mets Academy. Oggi parleremo del lavoro del apnea. Il lavoro del apnea è una semplice che puoi farlo quando non puoi andare all'acqua. Per esempio, ora, durante il lockdown non è possibile andare in acqua o nel mare. Puoi fare un lavoro del apnea a casa o in un parco. Il lavoro del apnea è considerato un trattamento seco. Un trattamento seco è tutto questo tipo di trattamento che, normalmente, faccia il trattamento quando non possono essere in acqua. Quindi, il concetto di questo lavoro del apnea è di fare un trattamento che puoi farlo con te stesso quindi non hai bisogno di avere un corpo con te. E puoi controllare in questo modo la sua contrazione, il tuo limite e tutte le cose come questo. E puoi fare un movimento perché puoi camminare. Quindi, è un po' di trattamento per te. Quindi, la cosa importante è che puoi usare il stesso tipo di respirazione che puoi usare in acqua. In questo modo questo apnea il mio lavoro sarà lavorato per te. Ora, parliamo del proprio respiratore in acqua. Se attendevi i corsi di freediving il professore dirà tecnici ma devi sapere che ci sono molte ma devi sapere ma devi sapere quale è buona per te. Puoi provare qualche cosa e poi decidi. L'importante devo dire che la respirazione e la respirazione e l'acqua è controllata quindi devi controllare quando sei in acqua e devi controllare quando sei in acqua in acqua ok? nonostante 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 tutto è controllato dal diapne ok? ora parliamo del lavoro il lavoro l'apnea è molto bello perché mi piace perché mi puoi capire il mio corpo cosa non posso fare sotto acqua per esempio lavoro e faccio come ho un watch quindi posso calcolare il tempo, quanti passi e quanti secondi, per esempio quando ho la prima contruzione quindi ho la prima contruzione per esempio dopo 30 secondi e lo scrivo e poi vedo la distanza tra una contruzione e l'altra e lo scrivo al stesso momento perché è il lavoro, posso solo scriverlo, quindi posso controllare il tempo, la contruzione e quando diventa più intensa e tutto, quindi è davvero un buon modo di capire il nostro corpo e di fare un trening, quindi per esempio posso scrivere qui tempo, passi, distanza, contruzione, ok? Quindi usando il tempo, potete avere un'idea di contruzione quindi mi concentrarò più sul tempo e la contruzione i passi, le distanze, possono dipendere perché le distanze non puoi fare in approcima e le passi, il lavoro, dipendono sul giro può essere sande, o può essere di altri tipi quindi mi concentrarò più sulle contruzione e il tempo tra una contruzione e l'altra e poi farò un plan un plan di freddivare per questo quindi la migliore modo di fare apnea walk è diventata in tre sette quindi direi che puoi fare apnea walk, rest, apnea walk, rest, apnea walk e di nuovo quindi questo è chiamato in freddivare un tavolo in questo caso un tavolo di apnea walk quindi per esempio puoi fare un minuto 30 secondi di apnea walk e poi puoi restare due minuti e poi ancora un minuto 30 secondi di apnea walk e poi ancora quindi hai due sette come questo e poi puoi fare un altro set più difficile per esempio fare il stesso apnea walk di apnea walk e poi resta due minuti di apnea walk e poi il ultimo resta così tanto che puoi quindi prendi il tuo braccio così tanto che puoi fare e poi prendi in trappi resta e poi farò di nuovo quindi è molto interessante quando fai questo tipo di sette apnea table per scrivere la contraccione come ho detto prima quindi puoi scrivere per esempio la prima contraccione e poi resta e poi fai per esempio 10-15 contraccioni e poi resta e poi quando fai al massimo potrai calcolare la contraccione e la distanza tra una contraccione e l'altra quindi è molto interessante per quando fai dopo l'acqua puoi capire con questo facilmente quindi ora che sai cosa è apnea walk l'altra domanda potrebbe essere quindi quante volte in una settimana dovrei trainare apnea walk quindi direi twice perché non voglio che farlo ogni giorno perché vi consiglio per cambiare a qualcosa per esempio un giorno puoi andare a correre se non puoi andare a mare un giorno puoi andare a correre sulle tire non andare a caminare il giorno perché dopo avanti mi consiglio just I will advise 2-3 times a week ok so I hope you enjoyed this video if you have any question don't hesitate to contact me if you like my channel and you want more video please subscribe here somewhere and see you next video bye